C'è lo stemma di un partito, ma si tratteranno argomenti di interesse generale. È stato chiaro ieri sera Fausto Orso Marso nell'inaugurare l'incontro promosso a Praia Mare da Fratelli d'Italia all'Anza Nazionale. Stop alla tristezza, solo cose belle. Visto da Sud, la Calabria, Giardino d'Italia ed Europa, uno slogan scelto per smuovere e dare uno scossono a quel lamento che spesso caratterizza il meridione dei nostri territori. Ovviamente la serata ha dato modo di confrontarsi anche su scelte programmatiche di partito di carattere puramente elettoralistico e con stretto riferimento alle prossime scadenze. Il partito di Giorgia Meloni ha scelto Praia Mare per iniziare la nuova fase di approccio alla conoscenza del territorio anche grazie alle diverse rappresentanze nei consigli comunali del Tirreno Cosentino. Seduti al fianco del consigliere regionale ed esponente del partito su scala nazionale Fausto Orso Marso, i consiglieri comunali Biagio Praino, Andrea Napolitano, gli assessori Antonino De Lorenzo e Vincenzo Spinelli. E c'era anche l'ex sindaco di Scalea Mario Russo, vicino da sempre al mondo del centrodestra. Presenti molti esponenti della categoria dei balneari, qualche imprenditore e uomini che seguono l'idea politica della destra e del centrodestra. Ovviamente tutti della stessa opinione, rilanciare attraverso alcuni passaggi la crescita progressiva della Calabria. Si è discusso di economia, politica, turismo. A disposizione di questo percorso le sintesi normative, le occasioni, le opportunità per determinare tale sprint. Il turismo regionale può e deve confrontarsi con il mercato globale per non subirlo, anzi per gestirlo al meglio ottenendo vantaggi e benefici. C'è una proposta di legge che noi abbiamo, è già legge regionale, votato l'anonimità scritta da me, Antonino De Lorenzo e Rosa Pignataro, giovani di questo territorio, sugli appartamenti ammobiliati a uso turistico, cioè sulle seconde case, che abbiamo riscontrato problemi che non sono soltanto in ambito di sicurezza, chi abita questi appartamenti, sul valore catastale di questi appartamenti, le presenze turistiche non sono censite, sull'opportunità di poter finanziare, che se uno guarda Praia, anche quando scende da qui, è bellissimo. Gli hotel e l'ottizzazione per hotel su tutta questa costa, parliamo di alto tirreno, ma anche basso e medio tirreno, sono risicati e in prospettiva noi sappiamo che la nostra offerta sarà sempre queste case. Allora, vorremmo poter immaginare che anche in queste case un'offerta turista che può cambiare in un mese, possano avere minimi finanziamenti per adeguarli, perché sappiamo bene anche conoscendo direttamente che il limite di chi fitta è materassi non adeguati, non c'è il TV Colo, insomma, quello che conosciamo da Carabesi da sempre. Crediamo che parlandone con questo strumento di legge, con lo strumento di legge sulla battaglia che noi stiamo conducendo, avendo bloccato già l'errore di Oliverio della Giunta, avevano anticipato l'effetto della Bolkestein, non so se lo ricorderete, con un intervento mio in Consiglio regionale e oggi è stata presentata ieri, sarà discussa come è stato fatto in Liguria da parte del centro-destra, da parte di Fratelli d'Italia, una proposta di legge che aggira i vincoli della Bolkestein, c'è un ragionamento anche generale per togliere dalla Bolkestein i balneari e gli ambulanti e dice ai concessionari di lì dei calabresi che hanno una tipicità di concessione familiare, di accoglienza, che è una ricchezza dell'Italia e anche la Calabria, che possono avere una concessione, vedremo chi voterà contro questa proposta di legge, dei lì di trentennale, che significa? Che se io so che ho una concessione trentennale posso investire anche in un lido 150-200 mila euro, trasformarlo, adeguarlo tra l'altro a una stagione che può prolungarsi. Come detto tra i relatori anche l'ex primo cittadino di Scalea, Mario Russo, in passato amministratore, oggi imprenditore turistico. Io da qualche anno ho avviato un'esperienza che ritengo positiva proprio nell'ambito turistico, realizzando un bed and breakfast così, partendo per gioco o forse anche mettendomi in gioco e ritengo che ci siano grandi potenzialità. Questo nostro territorio ha presenze di stranieri ai quali noi dobbiamo offrire una proposta turistica. Il fatto che si parli ad ottobre di questi temi sia credo abbastanza importante proprio perché bisogna programmare, come dicevi tu, la stagione turistica. Bisogna creare un brand, un marchio. Il Sud è vero che ha tanti aspetti di arretratezza per certi versi, però proprio sul turismo può essere l'occasione per il rilancio e per far sì che questo nostro territorio possa offrire sempre più un'adeguata proposta.